buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi sono molto contento perché ieri l'italia ha vinto anche se come ho detto spesso e più volte cioè io tifo italia ma non sono fissato come il lecce però comunque tifo italia come tutti i tifosi ovviamente italiani ovviamente il lecce per me sta al primo posto comunque l'italia ovviamente quando vince è chiaro che sono contento come tutti gli italiani sono italiano anzi sono prima salentino prima salentino e poi italiano però comunque sono contento l'italia ha fatto tre vittorie su tre ha vinto ieri e quindi vinto tre volte due a zero comunque sono molto contento siamo primi e diciamo che le squadre che abbiamo nel girone non sono tutto so che anche l'unica diciamo squadra di rivale veramente è la svizzera ovviamente e dobbiamo arrivare per forza primi altrimenti ci saranno delle partite playoff due partite se non sbaglio a partita secca quindi in un casino quindi speriamo di arrivare prima se ne parla a settembre italia lasciati stare in pace che non dobbiamo guardare il lecce adesso fino alla fine del campionato poi a settembre riprenderete di nuovo perché comunque sarà così se ne parla a settembre a giocare con la bulgaria quindi sono contento ieri che abbiamo vinto con lituania certo 2 a 0 con una squadraccia vabbè comunque ieri diciamo che ha giocato secondo me ha giocato e non giocato insomma non ha giocato tantissimo beh però importante di aver vinto fatemi sapere cosa ne pensate quindi ci vediamo al prossimo video vabbè faccio le congratulazioni a mancini che ha eguagliato il record di rippi di 25 risultati utili consecutivi se non sbaglio penso di sì se non mi ricordo male si comunque ha eguagliato quel record ovviamente speriamo questa che vinca l'europea l'italia speriamo ovviamente sono molto contento di nuovo come ho detto prima ci vediamo verdi c'è domani praticamente spacchiamo spacchiamo la sanità di merda spacchiamo quei bastardi domani vinceremo e sarà la quinta vittoria vinceremo otto partite otto finali per andare in paradiso ci vediamo domani nel posto partita mi raccomando seguitemi e anche nella live reaction insieme a filo youtuber e alex maverick se ci seguite ci vi divertirete casini sbattimenti in un bordello poi filippo è bravissimo con quello che fa insomma ci vediamo domani forza lecce bari merda e forza italia via